Ciao a tutti! Finalmente oggi riesco a mostrarvi questo tutorial che mi era stato richiesto da tempo ed è il tutorial sulla modellazione delle iniziali con la tecnica Wired Oggi modellerò la lettera A Modello la lettera A non solo perché è stata la lettera più richiesta quando avevo fatto un piccolo sondaggio nel mio gruppo Facebook e avevo chiesto quale lettera A era la vostra preferita ma anche perché mi è stata fatta un'ordinazione e quindi ho dovuto farla in ogni caso per cui ho pensato proprio di girare il video mentre stavo realizzando questa lettera come vedete ho dato prima la forma alla parte più grande della lettera A con le pinze rotonde si tratta semplicemente di fare un arco e due riccioli all'inizio e alla fine sto utilizzando il filo di rame dello spessore di 2 mm e visto che spesso me lo chiedete io questo l'ho acquistato da Leroy Merlin ed era una treccia di fili di quelli che si usano per lo scarico a terra quindi è rame naturale poi ho ammartellato tutta la parte esterna della lettera A e ho tagliato un pezzettino per fare la stanghettina centrale e ho ammartellato la parte centrale della stanghettina dopodiché con le pinze sono andata a curvare le due estremità della stanghettina per andarle ad ancorare sulle gambe della lettera A a questo punto la stanghettina non rimarrà stabile perché questo tipo di lettere comunque presuppone tutta un'altra lavorazione che è il wrapping e il wrapping mi aiuterà a rendere poi stabile la stanghettina centrale della lettera A per cui adesso passo su un altro piano di lavoro e vi mostro come ho realizzato il wrapping se volete poi approfondire la parte della martellatura vi ricordo che sul mio secondo canale ho dedicato diversi video proprio alla martellatura del rame da 2 mm quindi in quei video potrete trovare molte più spiegazioni adesso ho preso un filo di rame bronzato dello spessore di 0,3 mm e ho iniziato ad avvolgerlo più o meno nel punto di inizio di una delle due stanghette ho tagliato circa 2 metri di filo ma è una lunghezza indicativa perché comunque in questo tipo di lavorazione si possono fare delle giunte e adesso vi spiegherò anche come comunque sia ho fatto dei giri intorno alla struttura della lettera almeno 3 giri con il filo poi ho inserito un bicono ho fatto altri 3 giri e ho proseguito così verso la parte bassa della lettera con l'altra estremità del filo che ho fissato più o meno a metà della sua lunghezza ho scavalcato appunto la stanghetta della lettera A e questo già in parte la va a bloccare e ho continuato con la lavorazione in wrapping dei biconi per la parte superiore della lettera adesso ho deciso di andare a inserire una pietradura rotonda in uno dei riccioli della A quindi con il filo che va a terminare dentro il ricciolo ho fatto una serie di giri e poi ho posizionato la mia perlina rotonda dopodiché sono andata ad ancorare il filo dall'altro lato del ricciolo gli ho fatto fare 2-3 giri sono ripassata all'interno della perla l'ho ancorato di nuovo dall'altra parte e sono poi ripassata di nuovo all'interno della perla ho fatto quindi questo passaggio per quante più volte mi è stato possibile farlo in modo da bloccare perfettamente la perla nella struttura della lettera se vi trovate con una perla un pochino più piccola o un pochino più grande vi ricordo che con le pinze potete aggiustare un pochino la grandezza del ricciolino anche se lo avete già martellato quando ho finito con l'operazione di bloccaggio della perla ho tagliato il filo a filo del foro della perla cioè proprio dove finiva in questo modo non avrò fili che graffiano nel momento in cui si andrà a indossare il ciondolo per cui lo taglio con le mie tronchesi e poi con le pinze lo vado a spingere dentro la perla nello stesso modo si fanno le giunture sul filo quando appunto il filo da uno dei due lati finisce e si riprende la lavorazione quindi vi basterà poi inserire il filo in uno dei bicono e tagliarlo a filo con la foratura del bicono e poi con le pinze spingerlo delicatamente dentro il bicono io ho fatto proprio un'aggiunta e poi sono andata a proseguire con la lavorazione dall'altro lato della lettera anche in questo caso la stanghetta viene bloccata dal filo che la scavalca da un lato e dall'altro ma poi verrà anche bloccata ulteriormente con la lavorazione successiva io ho terminato anche quest'altro lato della lettera A mettendo una perla in vetro nell'altro ricciolino della lettera e l'ho bloccata nello stesso modo in cui avevo bloccato la pietra dura dall'altra parte ovviamente questi sono passaggi decorativi, facoltativi nel senso che potete scegliere voi come decorare le vostre lettere potete scegliere anche di lasciare uno dei due ricciolini vuoti potete scegliere di riempirlo con delle perline più piccole potete scegliere di mettere i biconi solo in un lato della A io vi sto facendo una serie di esempi e poi potete procedere con la vostra fantasia infatti alcune ragazze avendo comunque anche visto soltanto i miei videocreazioni in cui mostravo queste lettere già hanno realizzato le loro lettere senza bisogno del tutorial e spero comunque di dar loro qualche indicazione in più rispetto a quello che hanno già saputo fare da sole comunque le loro foto le trovate nella mia seconda fanpage che è Inspirational by Archidee in cui è nato un album ispirati da Archidee e in quest'album sto raccogliendo tutte le foto delle creazioni che voi fate dopo aver visto i miei tutorial o i miei videocreazioni adesso sto facendo un altro strato diciamo un altro passaggio nella decorazione di questa lettera sto utilizzando un artistic wire di color rosso rubino e andrò a fare dei riccioli e delle altre decorazioni appunto con questo filo lo vado a bloccare su uno dei riccioli della A facendo un paio di giri e andando a tagliare poi la parte in eccesso poi farò girare il filo due o tre volte intorno alla mia pietra dura dopodiché inizierò ad avvolgerlo intorno alla struttura della lettera andando a scavalcare i bigoni facendo in modo di non fare pressione sui bigoni fate attenzione perché questa è una fase un po' delicata e potete rischiare di spezzare i bigoni se non fate attenzione io in questa lavorazione non avevo tempo e quindi non ho messo lo scotch sulle pinze ma sono abbastanza allenata però mi raccomando proteggete le pinze perché altrimenti rischiate di rovinare la colorazione dell'artistic wire mentre procedo con i miei ricciolini vado ad inserire anche alcuni elementi decorativi ho inserito un charm a cuoricino adesso sto facendo un ricciolo che si piega su se stesso per farlo ho fatto prima un occhiello con le pinze a punta tonda e poi bloccando il filo con due dita sto continuando a farlo girare a spirale su se stesso e così si crea questo motivo decorativo che vado a bloccare in un punto qualsiasi del contorno della A dopodiché andrò a inserire anche il gancio per questo sondolo come gancio io utilizzo un anello diamantato preso da una di quelle catene che si utilizzano anche per la chain mail gli faccio scavalcare la struttura della lettera e comunque lo vado a bloccare anche con l'artistic wire in questo modo il mio gancio non andrà in giro per tutta quanta la lettera ma si bloccherà proprio nel punto, nella sommità superiore dove desidero io e potete anche, quando fate la struttura della lettera potete prevedere un punto di aggancio io preferisco aggiungere un elemento diverso in modo che non si perda il disegno della lettera e quindi che rimanga la lettera con un disegno più pulito e che il gancio rimanga come un qualcosa a parte come appunto anche i charms che ho già inserito un altro tipo di decorazione può essere anche per esempio una cappetta per le perle l'ho inserita nel filo poi l'ho posizionata schiacciata rispetto alla lettera e l'ho fatto girare di nuovo il filo intorno a spirale e in questo modo l'ho bloccata e l'ho fatta diventare un elemento decorativo piatto e poi sempre con il filo ho creato un'altra spirallina sono andata giù per l'altra gamba della A e successivamente ho avvolto il filo anche intorno alla perla in vetro di Murano l'ho fatto fare due o tre giri poi sono tornata in alto e ho avvolto il filo anche intorno alla stanghetta centrale tutti questi passaggi li ho fatti però soltanto con un filo in questo caso è meglio non avere giunzioni di filo per cui tagliatene almeno almeno un metro e mezzo poi vi regolerete andando avanti facendo più di una lettera vi regolerete sulla quantità di filo che è opportuno tagliare con il pezzettino di filo in più che mi era avanzato ho pensato di fare il gancetto ai laccetti di questo sondolo i laccetti di questo sondolo sono fatti con delle fettucce per il soutage di quelle un pochino troppo morbide per fare proprio il soutage e è fatto in questo modo perché doveva essere coordinato con degli orecchini al soutage e per fare questo gancetto sto realizzando l'elemento decorativo che già mi avete visto fare in uno dei miei tutorial che è quello in cui faccio i bracciali in finto cuoio e perle di saì quindi potete andare a vedere quel tutorial per vedere come fare questa piccola spiralina che va a bloccare il laccetto del ciondolo e crea anche una decorazione vi ho lasciato in coda a questo video tutte le altre lettere che ho realizzato e alcune le avete viste in un video creazioni e altre non ve le avevo ancora mostrate come queste qui, forse le avete viste su facebook perché già le avevo messe e in queste lettere qui il filo era martellato su due lati nel senso che prima avevo preso una porzione di filo circa 20-25 cm e l'avevo martellato tutto dritto poi avevo dato la forma alla lettera e l'avevo martellato nell'altro verso per cui sono arrivata ad ottenere un filo a sezione quadrata non nelle lettere che vedete ora ma in qualche lettera fa nella N, nella I, nella O, nella S e nella prima delle G spero che questo video vi sia piaciuto io adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao!